Un cordiale Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra segna settimanale di giornali della provincia di Belluno con La Sentinella, giornale della comunità di parrocchia in Lamont, Arina e San Donato, richiamate dalle tre foto di copertina. La Lamont, Arina e San Donato. Nell'articolo di fondo il parroco Don Giorgio Aresi, prendendo lo spunto da una canzone di Guccini, Non bisognerebbe 1994, si chiede appassionarsi al presente o aggrapparsi al passato? E riflette sulla espressione chiedersi cos'è, cosa sono i valori di un tempo ai quali ci sentiamo aggrappati. Si chiede poi a cosa aggrapparsi di quello che abbiamo e dice quando il tuo equilibrio ti culla tra il desiderio che nulla cambi e la paura che qualcuno la pensi diversamente da te. Ecco la scelta che siamo chiamati a fare, la scelta di lasciarsi anche potare nelle varie situazioni. Cita anche l'attaccamento a delle cose che noi mettiamo via come espressione del nostro passato che ci dà sicurezza nel presente e anche nel futuro. E' tornato a farci visita il Vescovo Virgilio, due mesi, che è qui fra noi, un'analisi della sua salute, un incontro con gli amici. E' lui che celebra i 50 anni di sacerdozio, 20 anni di Vescovo in Kenya e 75 anni di vita. Dice che vuole anche ritornare in Kenya, dove pensa di rimanere fino al momento in cui passerà all'altra vita, sperando di realizzare il suo motto pastorale, Leone e Gazella, che vivono insieme. Viene riportata anche una lettera mandata a Pasqua, per gli auguri di Pasqua, da padre Virgilio. Una lettera anche di Sorrester Facchin dal Brasile, comunicazioni attraverso Don Luigi Canale, una suora di 88 anni, vicina al fratello Vittore che ne ha, padre Vittore che ne ha 94. Si impegnano a servizio del Regno di Dio, ancora con grande intensità. Suor Donatella dall'Argentina, ugualmente si sente in comunicazione con la sua comunità. Una pagina, ricordo ancora di Don Tarsillo Bernardi, recentemente scomparso da nove anni a servizio della parrocchia di Lamont e anche delle altre, Arina e San Donato. Don Tarsillo Sevedon, un saluto in dialetto. E poi Don Tarsillo, un incontro mancato, l'apprezzamento di Paolo Conte per l'azione anche di recupero di materiale di valore storico che Don Tarsillo stava facendo. Era stato invitato Paolo Conte a verificare questo lavoro, a consultarlo, ma dice che non sono andato e quindi rimane questo rammarico di aver mancato a questo invito, a questo appuntamento. Un grazie, conclude Don Giorgio Parroco, dice che con questi ricordi si chiude la raccolta e l'obbligazione in memoria di Don Tarsillo Bernardi. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla memoria con propri contributi, li abbiamo visti nei precedenti giornali. Un programma di gite estive, un ricordo, un ritorno al passato, Gildo tornando a Fosess dove faceva il pastore, la travagliata storia delle campane di San Daniele. Ecco una raccolta, questa chiesa che adesso è sconsacrata, ma le campane che furono rimesse in sesto nel 1931, perché nel 1930 si rupe la campana maggiore, un impegno della comunità, un debito, il fallimento di una banca e l'impegno della comunità con due pesche per recuperare la cifra e poter finalmente ricollocare non solo il suono delle campane, ma anche sanare questa difficoltà economica. Abbiamo poi alcune foto che documentano avvenimenti parochiali, la voce di Arina dà la relazione economica di bene della parochia con un dettaglio bello e significativo, segno di un'attenzione e di una partecipazione della comunità a quello che è l'impegno economico difficile in questo periodo nel sostenere le spese generali e delle strutture parochiali. In quel di San Donato viene dato conto di una testimonianza su padre Romano Bottegale, remita a, in Libano, testimonianza di padre Jean Nadaf, molto bella da leggere soprattutto per chi è affezionato alla figura di questa grande persona che è stato padre Romano che aveva scelto Dio e il silenzio. Simboli in foto, la Pasqua rappresentata da questi simboli collocati nella chiesa di San Donato. Ecco, abbiamo visto la Sentinella, il giornale della comunità di parochia di la Mongarina San Donato. Passiamo a In Marcia, nel segno della tradizione, la copertina è dedicata al centenario della fondazione, della sezione di Belluno, cento anni saldi come Nacroda. Abbiamo un disegno di Fiamane con gli Alpini, figure richiamate anche dalle statue del ponte degli Alpini, un ingresso della città. Abbiamo la sede attuale di Via Tissi, qui abbiamo un momento di un raduno con tutti i gagliardetti dei vari gruppi e poi abbiamo la foto storica del Leondoro, l'albergo nel quale il 19 giugno del 21 nacque la sezione Ana di Belluno, come dirà più avanti il giornale. Un generale armato di siringhe per vaccini, ecco una, viene presentata da Dino Brida, la figura di figliolo che ci è diventata familiare per apprezzare questo servizio che un generale, che si presenta sempre con la sua divisa generalmente tutta mimetica ma anche quella ufficiale, si presenta a servire e lo sta facendo anche bene la comunità. La due giorni del centenario, con cerimonia e partecipazione forzatamente ridotta, qui siamo al programma, è stata celebrata il 5 e il 6 di giugno, le due giorni del centenario che abbiamo la sala di Via Tissi e abbiamo il vecchio albergo Leondoro in Via Carrera dove, adesso c'è una banca, ma dove è stata firmata la nascita di questo gruppo che festeggia oggi i suoi cento anni. Abbiamo poi il 6 giugno il programma La Messa che è stata celebrata in cattedrale e gli onori alla bandiera e ai caduti in Piazza dei Martiri e a Via Fantuzzi con quelle limitazioni che le normali regole in relazione alla pandemia bloccano anche le varie attività. Quindi una cosa che è mancata, la sfilata sia per l'assemblea annuale celebrata il 30 maggio dal Palasport, sia per questi due giorni di celebrazione del centenario. In uno specchietto interessante viene data il nome e il periodo di carica dei presidenti della sezione, partendo da Dazio De Favari, fondatore 1921, rimase fino al 36, per arrivare agli ultimi, Franco Patriarca, Rigo Cadore, Angelo Dal Borgo e Lino De Prat attualmente in carica. Dazio De Favari, un ragioniere in prima linea, viene data la storia personale di questo personaggio di Belluno, 1881-1953. Qui vediamo Dazio De Favari a una assemblea del 32 a Torino, viene ricordato il suo rifiuto di una impostazione politica nel periodo fascista, la costrizione a lasciare la sua carica, partecipò anche alla seconda guerra e poi il suo impegno con gli alpini fino alla morte nel 53 a 72 anni. A ricordo del colonnello Luigi Zacchi, cent'anni dopo, 1895-1950, il colonnello Zacchi a cui è dedicata una ferrata sullo Schiara, un grande impegno di quest'uomo insieme agli alpini. Dietro i freddi numeri di una sola parola umanità abbiamo 980 volontari che si sono impegnati per 4591 giornate, anche altri alpini, 297, per 513 giornate di servizio. Il legame con l'IRAC, il ricordo di un capitano, Giovanni Papini, generale ora giovane ufficiale, trombonista d'eccezione, che ricorda gli anni di formazione come ufficiale di complemento ad Aosta, dove c'era la scuola. Il tenente Marco Dalfarra, inquadratore dall'Alpago all'Accademia di Modena, qui lo vediamo, insieme al gruppo dei suoi cadetti che seguirà per gli anni di formazione. Il giornale passa poi a presentare varie attività dei vari gruppi delle sezioni, fino a un ricordo di una battaglia in Albania sotto il tiro del nemico Gello. Ecco, abbiamo visto in marcia nel segno della tradizione. Passiamo all'Ombra, organo del Circo Culturale Sinistra Piave, che in questo numero di maggio, nelle prime di copertina, per quanto riguarda la zona di Mel, sempre comune di Borgo Valbelluna, parla del rinnovato ufficio turistico di Borgo Valbelluna e l'impegno di servizio come ufficio turistico e di accoglienza di informazione e accoglienza turistica, importante per questa zona della nostra provincia. Per l'NTI viene raccontata la storia di un negozio, Bombasina Stori. Bombasina, questo tessuto di cotone per lenzuola bianco e candido e grezzo, che si vendeva in enorme quantità anche per preparare le dotte. Viene dato conto di questo negozio. Tricchiana, nuova vita al Parcolotto, un punto di riferimento significativo sul piano sportivo e culturale di questa zona del Borgo Valbelluna, del comune, a Tricchiana, che adesso è affidata a un nuovo gestore che intende rilanciarlo, come servizio per tutta la comunità e le sue attività. Limana cammina con me. Ecco, vengono presentate delle iniziative in occasione del cinquantesimo della pubblicazione dei miracoli di Valmorel in relazione a Dino Buzati. Il giornale passa poi nelle pagine un approfondimento di tipo culturale e politico di Giorgio Roncada, assedio all'Europa da parte di altri stati grandi. Se ne parla in questi giorni con l'incontro tra gli Stati Uniti e l'Europa, la guerra fredda che adesso si passa a un'azione che interferisce attraverso l'UEB e Giorgio Roncada si augura che non diventi terra di conquista perché i nostri governanti sono attenti e sono in guardia per non farsi indebolire e farci diventare terra di conquista. Il giornale passa poi a presentare varie attività, qui sicuri a piedi, un'attività di camminata, la pedagogia della lumaca, empatia e umanità, celebrazioni del 25 a Mel, a Lentiai, comune Vorgo, Ballo e Luna, una festa il 25 aprile sottolineata sia dalle parole della Ciprette che del Sindaco. Giaculatorie e le preghieri brevi del popolo cristiano, un articolo di Don Brunone, alle scuole di Borgo Valbelluna, 18 PC per la didattica a distanza dal Lions Club di Belluno, notizie che riguardano la comunità, dieci anni di effettuosa condivisione per Renato e Fiorella, la nuova avventura per Marely Savaris, che è passata anche a gestire la torrefazione Bristopsi, tembi a Psaro a Belluno, un messaggio di speranza da Nazareno e Maria, 64 anni insieme. Il giornale continua poi a presentare gli vari avvenimenti e personaggi delle quattro zone a cui il giornale stesso fa riferimento. Abbiamo visto l'ombra, organo del circolo culturale Sinistra Piave. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno. Grazie a tutti i nostri spettatori